Nello spogliatoio spesso ci confrontiamo e sinceramente non vediamo l'ora di scendere in campo. E mostra ogni giorno con un rapporto di fiducia e amicizia che va oltre il campo con tanti colleghi, da Frattaglia Bianco passando per Scavone come gli scatti sui social nei momenti di relax dimostrano tutti uniti per un ritorno alle gare ufficiali a quattro mesi dall'ultima volta. Verremo da quattro mesi che non giochiamo, non possiamo fare amichevoli e quindi sarà molto molto difficile. Sarà un playoff completamente diverso rispetto a tutti gli altri perché non si possono veramente commettere errori. Hai una partita e se sbagli sei fuori. La squadra di Vincenzo Vivarini, seconda nel girone C allo stop del campionato, scenderà in campo per la prima volta lunedì 13 luglio nel secondo turno della fase nazionale degli spareggi promozione. Lo farà forte di due risultati su tre nei 90 minuti per accedere in semifinale. Il Bari giocherà in casa ma in un San Nicola vuoto. Soprattutto per il Bari penso che sia un fattore aggiunto quindi dovremmo essere concentrati ancora di più perché giocare in un stadio vuoto delle partite così importanti devi stare veramente concentrato al 110%. Dopo quattro mesi di stop muscoli e testa sono stati resettati, i valori per ammissione di Di Cesare sono però azzerati. Non ci saranno favorite perché come ho detto prima dopo quattro mesi tutti siamo allo stesso livello. Noi però siamo il Bari e dobbiamo veramente tirare fuori quel qualcosa in più perché dobbiamo assolutamente arrivare all'obiettivo. Non serve essere belli, essere perfetti ma serve semplicemente essere i migliori. Dimenticare i 25 risultati utili di fila fino allo stop, il secondo posto e il blasone. I playoff saranno un nuovo campionato, assicura il centrale che in Cilie ha vinti nella stagione 2016-2017 a Parma. La cosa veramente più importante per tutti quanti, per noi giocatori, per lo staff, per la dirigenza e per la gente perché Bari merita di tornare in Serie B. Capitano in campo, leader fuori, Di Cesare parla ai compagni alla tifoseria. Tre partite separerebbero il Bari dal ritorno in B, un'occasione da non perdere. Forse perché ho 37 anni e mi sento una maggiore responsabilità, forse perché sto finendo la carriera, non lo so. Però il mio ultimo pensiero prima di andare a letto adesso sono questi playoff.